Questo è l'ultimo episodio, di questa stagione. Ho iniziato questa serie a fine 2019 e la concludo oggi che è febbraio 2020, ma probabilmente voi la vedrete nel 2021, tra poco uscirà la 19.5 e poi la 19.6, per cui visto che nei prossimi mesi proverò su un server privato varie mod, ho deciso di finire qui la mia prima esperienza con questo gioco, farò certamente una nuova stagione ma nel frattempo voglio trovare le Modum The Ad Legace e Darkness Fall, per cui ci vedremo nella prossima stagione di Seven Day Studi e Vanilla. Godetevi questa ultima luna rossa della prima stagione. Buona visione. Grazie. 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 Grazie.